ciao ragazzi siamo in 3d4 e stasera facciamo un unboxing bene per questa espansione cominciamo con un unboxing di un bundle di wild of train e vediamo come ginger la nostra scatolina la cito che quando una bustina già sono poche su 8 e sono in modalità 7 poi abbiamo le solite terre più una rara davanti poi abbiamo lì cominciamo i soliti dadi di scatolina prima busta l'app è carina and curiosity e la foglia c'è una busta in tecchetta wildwood mentor lei mi piace e mi piace veramente tanto buona è una foil rara earth flame duerist non male con bustina andiamo al pacco numero 3 terra le nuove terre che si animano quindi potremmo anche una nuove ecco per fare peak è ancora il il l'esplico il è ancora il e l'esplico ne sono esolo il o Lois Arquist doppia è una bella lore firmata le riette cosa ne dite voi di questa carta? un push e da fuori una lista prima lista è il box bella file anche lui mi piaceva tanto un po' un po' un po' Virtu of knowledge Dark Blind E una lista Che purtroppo non mi trovo Mettiamo fuoco bene Devoring Eccola Talion E con questo bird Si chiude il nostro unboxing Ciao ciao Ciao